Sì, è stata un'esperienza molto bella, veramente ha toccato delle problematiche che sono estremamente attuali ed importanti, perché quando parliamo di diversità, quando parliamo di minoranze linguistiche, quando parliamo di culture diverse nella società di oggi, non parliamo soltanto del passato, ma parliamo anche o forse soprattutto del presente, perché il modo in cui guardiamo al nostro passato ci deve aiutare, ci deve guidare oggi nell'affrontare i problemi che abbiamo quotidianamente, perché ci troviamo di fronte a una realtà che è sempre più multiculturale, sempre più multietnica e dobbiamo essere attrezzati anche culturalmente per farlo. Ora il nostro passato ci può aiutare in questo cammino, perché il nostro passato è fatto di diversità, è fatto di popoli che si sono incontrati, che hanno lasciato ciascuno qualche cosa all'altro e noi oggi riscoprendo questa tradizione comune con altri popoli possiamo guardare alla realtà attuale, non con diffidenza, con preoccupazione, con paura, ma sapendo che incontriamo persone che già appartengono in qualche modo alla nostra cultura e alla nostra vita. Grazie.